Siamo nella sede di Vega, leader di Macchine per Caffè, azienda amica del mondo del ciclismo. Il mio ciclismo tra agonismo e gravel. Anche quando mi allenavo amavo fare la sosta bar per bere un bel caffè e adesso è ancora più bello. Con la gravel è ancora più relax, godersi il panorama, trovare un bel bar, magari in mezzo alla natura e sorseggiare un buon caffè. Grazie a tutti.